Cari amici, buongiorno, sono Monica di Dei Allegri. L'estate fa molto caldo e non abbiamo certo voglia di accendere il forno, però una delle ricette tradizionali della nostra cucina sono i pomodori e i pieni fatti al forno. Io oggi vi presenterò una ricetta completamente gluten free e senza cottura al forno ovviamente. Prima di procedere voglio ricordarvi alla fine di questo video di mettere un like, se vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella delle notifiche per essere aggiornati sui nostri nuovi video. Ed ora seguitemi e vai con la ricetta! Per la ricetta di oggi vi consiglio di avvantaggiarvi la sera precedente cuocendo i peperoni e il riso venere. Oggi assembleremo solo gli ingredienti nei pomodori. Ecco come fare! Grazie a tutti! 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 a tutti!